ciao viaggiatori buon pomeriggio parliamo di verità si sente parlare di ragione o torto oggi più che mai nei social nelle tv attraverso i giornali ognuno ha la propria verità ma in realtà cos'è la verità in realtà chi davvero ha ragione o torto come possiamo metterci d'accordo su quello che dice uno piuttosto che l'altro il virologo il medico lo scienziato lo studioso e via dicendo oggi ognuno ha la propria ragione e credo che in verità la ragione sia soltanto nell'espressione totale dell'amore quella è la verità e invece ci si perde ci si perde nei ragionamenti ci si perde nella personalità ci si perde nell'ego ci si perde nelle maschere perché la ragione o il torto fanno la differenza in realtà la vera differenza l'unica differenza lo fa il soffio della vita attraverso la manifestazione totale dell'amore e quindi manifestiamo l'amore e attraverso l'amore saremo nella verità della vita perché la vita ci accompagna sempre e comunque attraverso il suo soffio attraverso la sua magnificenza attraverso la sua bellezza e quindi riscopriamo la verità dentro di noi dentro ognuno di noi dentro il proprio cuore lì giace la verità nell'amore nella profondità dell'amore e quindi smettiamo di combatterci l'uno contro l'altro e cerchiamo di unirci come fratelli e sorelle e di rispettarci l'uno con l'altro attraverso l'amore vi abbraccio nella luce nell'amore ciao viaggiatori